Musica Vorrei dedicare queste riprese alla città metropolitana di Torino che in tanti anni mi ha sempre seguita in vent'anni ospitandoci per la conferenza stampa nel magnifico Palazzo Cisterna che è la loro sede aulica perché voglio condividere con loro le immagini di questi bellissimi tulipani neri che sono viola scuro ma vengono chiamati neri e si chiamano Regina della Notte, Queen of the Night e hanno alimentato poeti, pittori, scrittori fiabe insomma in tutto il mondo il tulipano nero è un vero nico